Grignasco Un progetto senza alcun scopo di lucro messo in piedi da un team giovani di professionisti del settore audiovisivo e non Stefania Regista, Raffaele direttore della fotografia, Paola produzione, Emanuele e Davide foto e video backstage Il video è stato apprezzato dai molti schiesti e subendo con quasi 100.000 visualizzazioni Già l'entusiasmo spigenato dal video è stato più forte di moltissimi gli schiesti che ci hanno chiesto in qualsiasi settore Quest'anno il team si è allargato con altri giovani professionisti Sara, Lorenzo, Vito, Alessio e Francesco Scopriremo Grignasco dal punto di vista paesaggistico, ovviamente in tutto condito dai cittadini impossibili La colonna sonora sarà però originale e lunga 11 bel locali, ognuno proprio stile e la banda musicale di Grignasco creeranno la povera di un brano internazionale che vi raccherà senza fiato Il tutto assemblato dal grande Francesco Tambone del sud oeste 88 live di Gattinara, eccolo lì Questa è l'America del mondo Abbiamo bisogno del vostro aiuto per coprire questi essenziali di realizzazione del video Se vuole le domande, gli spagnoli Quindi, perché non è uno scopo lucrativo, il video non ha uno scopo lucrativo Anzi, con lo scopo del video vuole riportare i servizi in gli spettatori e in quelli che lo realizzano Grazie Siamo finiti Grazie 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 Grazie